RIMBORSOPOLI All'istituto zooprofilattico Cene, hotel e anche una cacciotta Nel mirino della procura Tre gli indagati Comune di Teramo I Cinque Stelle lanciano l'allarme Da gennaio saranno a rischio gli stipendi Colle atterrato Discarica abusiva sotto la palazzina bruciata Monta la protesta degli sfollati Giudiziaria Esplosione dell'asilo di Piano Daccio A Teramo sotto accusa L'azienda di manutenzione Chiesti 5 rinvie a giudizio Pescara, Donciotti e la Caritas Accendono i riflettori Sulla piaga della prostituzione E per lo sport calcio Nel Teramo verso la Carrarese Si blocca anche Bucchi Con Lascoli in Coppa Si gioca il 22 allo stadio Buonolis Atletica leggera L'Atletica, Gran Sasso Teramo Protagonista con le medaglie Ai campionati italiani cadetti Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con informazione di Teleponte Sarebbero a rischio gli stipendi dei dipendenti del Comune di Teramo a partire dal prossimo gennaio 2015 Quello che sostengono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Teramo Gli stipendi dei dipendenti del Comune di Teramo sarebbero a rischio a lanciare l'allarme questa mattina in Commissione Bilancio La responsabile finanziaria dell'ente A diffondere la notizia è stato il Movimento 5 Stelle Sì, noi oggi abbiamo assistito a questa Commissione Bilancio In cui la dottoressa Verretti ha chiaramente detto che Per la precarietà del bilancio Potrebbero essere a rischio addirittura gli stipendi dei dipendenti comunali Ovviamente noi abbiamo notato che Anziché tagliare le spese di gas e luce in questi mesi Il Comune invece ha provveduto ad alzare le rette di scuola, bus e mensa Ovviamente è una cosa molto più facile aumentare le rette Anziché provvedere a un piano di razionalizzazione delle spese Noi ovviamente ci opporremo con tutta la nostra forza a questo piano dell'amministrazione Piano che sotto campagna elettorale sembrava andasse tutto per il meglio Invece adesso i terramani stanno pagando le promesse del sindaco Brucchi Secondo voi dove potrebbero andare a tagliare? Noi abbiamo un energy manager che anziché far risparmiare il Comune nei costi di gas e luce Praticamente noi abbiamo dei costi che sono invece aumentati durante gli anni Noi vogliamo che sia per quanto riguarda il patrimonio immobiliare sia per quanto riguarda le utenze Si provveda immediatamente a tagliare i costi Stiamo parlando di costi molto alti in quanto noi paghiamo circa 2 milioni e mezzo di energia elettrica E si è previsto un altro milione di riscaldamento degli uffici Qui noi dobbiamo tagliare immediatamente perché si potrebbero liberare delle risorse importanti per i cittadini terramani Gli stipendi dei dipendenti comunali sarebbero a rischio a partire eventualmente da quando? Diciamo da 1 gennaio ovviamente 2015 sempre se non verranno effettuati quei tagli di spesa necessari Per appunto garantire l'equilibrio del bilancio comunale Quindi questo ovviamente è un punto importantissimo su cui noi ci batteremo il 21 ottobre Quando si dovrà discutere e approvare il bilancio comunale La Team, la Teramo Ambiente non ha ancora il nuovo presidente E potrebbe ricorrere a un altro candidato rinunciando a quello designato Pierluigi D'Antonio Perché non autorizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia secondo le anticipazioni della CGL di Teramo In attesa della soluzione del mistero è pronto un altro nome Sempre della civica di Mauro di Dalmazio E cioè Giovanni Mattucci, il servizio L'Assemblea dei Soci della Teramo Ambiente si avvia a indicare un nuovo presidente E potrebbe essere il commercialista Giovanni Mattucci Ex-revisore del Comune di Teramo Espressione sotto il profilo della progenitura politica Della lista civica che fa riferimento al consigliere regionale Mauro di Dalmazio Mattucci è ai box perché è forte il rischio Che il presidente designato Pierluigi D'Antonio non sia idoneo a ricoprire l'incarico Che lo fosse per via della incompatibilità del suo lavoro di cancelliere in tribunale Era nell'aria, visto il ritardo con cui si procede alla sua proclamazione Ma a rendere concreta la rinuncia è stata l'indescrizione fatta circolare dalla CGL Secondo la quale il ministero di Grazia e Giustizia avrebbe già negato l'autorizzazione a D'Antonio Addirittura un mese fa Il sindaco Brucchi questa mattina, prima di tutto, ha provato a chiarire la vicenda Sottolineando che l'incompatibilità sarebbe riferita alla presenza di un dipendente pubblico Nell'amministrazione di una partecipata In congruenza, sostiene il sindaco, rispetto a quanto accade invece a Ruzzo È arrivata una prima risposta da parte del ministero Che però contiene, a detta anche di Pierluigi D'Antonio Alcune parti che necessitavano di un ulteriore chiarimento Per cui è stata inviata da parte di D'Antonio un'ulteriore richiesta al ministero E ne stiamo aspettando gli esiti, dovrebbero arrivare questa settimana Il motivo del contendere è quello del discorso se un dipendente pubblico può o meno ricoprire Degli incarichi all'interno di società partecipate È ovviamente una contraddizione perché c'è proprio una legge fatta poco tempo fa Che invita, anzi che obbliga i sindaci a nominare nelle società pubbliche, nelle partecipate Solitamente pubbliche, dipendenti pubblici C'è quello che è accaduto a Ruzzo dove l'amministratore delegato è esterno Ma dove due dipendenti sono amministratore, quindi c'è questa interpretazione C'è un caso rimborsopoli anche all'Istituto Zoprofilattico di Teramo Stando a quanto contesta la procura teramana all'ex direttore caporale E a due dirigenti dell'IZS Nel mirino dell'inchiesta che si avvia alla conclusione Cene per notamenti in hotel, biglietti aeree e un acquisto particolare Sentiamo Ci sarebbe anche una cacciotta acquistata in Sardegna in una missione di lavoro Tra i costi rimborsati ai dirigenti dell'Istituto Zoprofilattico caporale di Teramo Evidenziati dall'inchiesta della procura di Teramo Che indaga sulla rimborsopoli all'Istituto di Via Campo Boario di Teramo La magistratura teramana ha iscritto sul registro degli indagati tre dirigenti Tra i quali l'ex direttore Vincenzo Caporale Cui vengono contestati reati di peculato e truffa L'indagine condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dal pubblico ministero Greta Loisi E avviata nel 2012 sulla base di alcune segnalazioni Ha passato al vaglio le documentazioni di rimborso presentate All'amministrazione dell'IZS da parte dei dirigenti impegnati a vario titolo E in diverse occasioni in viaggi di lavoro anche all'estero Da questi atti sarebbero emerse richieste di riconoscimento di spese relative a cene Biglietti aeree e acquisti anche particolari Effettuati o utilizzati in occasione di missioni In alcuni casi quelle stesse spese erano state rimborsate da altri enti Per i quali il dirigente era impegnato E' il caso delle missioni presso L'OIE Dove Caporale era presidente di commissione L'inchiesta ha verificato l'emissione da parte delle agenzie di viaggio Di biglietti di business class con diverse compagnie aeree Messe a rimborso anche in altra amministrazione Ma anche cene allargate con numerosi e ricorrenti ospiti Tutte a spese dell'istituto Per i viaggi aerei sembra che l'ex direttore Abbia già parzialmente rimborsato l'IZS Di parte di quanto ricevuto Analoga contestazione ma in minor misura Riguarda gli altri due dirigenti In particolare per pernottamenti in albergo E cene ma anche articoli di shopping Come già detto anche per una cacciotta di formaggio sardo Caporale ha chiesto spontaneamente di essere ascoltato Dal PM alla presenza del suo legale L'avvocato Gennaro Lettieri Non è escluso che nei prossimi giorni La procura emetta l'avviso di conclusione delle indagini E chiusa l'indagine sull'esplosione dell'asilo di Pianodaccio di Teramo La procura ritiene che il vano caldaia dove avvenne la deflagrazione Fosse saturo di gas perché non sufficientemente areato E chiede conto di questo all'azienda che di quei locali gestiva la manutenzione Cioè la CPL Concordia che lavora in convenzione con il comune di Teramo Sono cinque le richieste di rinvio a giudizio che il pubblico ministero Stefano Giovagnoni Ha firmato a conclusione dell'indagine sull'esplosione della centrale termica dell'asilo di Pianodaccio Verificatasi il 3 ottobre dello scorso anno Le persone indagate per le quali la procura vuole il processo Sono tutte a vario titolo dipendenti della cooperativa modenese CPL Concordia L'azienda che si occupa della manutenzione e della sicurezza della scuola di Pianodaccio Si tratta di tre dirigenti tra i quali il presidente e due membri del consiglio di amministrazione E di due tecnici L'ipotesi di reato formulate di disastro colposo L'esplosione si verificò nel tardo pomeriggio del 3 ottobre E per fortuna avvenne in un edificio ormai vuoto I bambini erano usciti appena qualche ora prima I rievi tecnici seguiti alla deflagrazione Che sventrò l'edificio in quasi tutti i locali al pian terreno Evidenziarono l'origine del vano Caldaia Nel mirino degli inquirenti era finita subita una valvola Un riduttore di gas situato in una cassetta all'esterno del locale Caldaie Il cui cedimento aveva provocato la saturazione del vano Che ospitava la centrale termica Un locale che avrebbe accertato l'inchiesta non era a norma Per via dell'assenza di un'adeguata areazione Con una griglia insufficiente La fiammela di un boiler accesa all'apertura dell'acqua calda di un rubinetto Innescò l'esplosione La società CPL Concordia dal 2012 gestisce la sicurezza dell'istituto Per conto del comune di Teramo Una notizia di cronaca particolare a Pescara Vede uscire dal portone due ladri con la sua tv La sua televisione Mentre nel parco gioca con i figli Insegue i malviventi e chiama la polizia È caduto a Pescara in via nazionale Adriatica Nord ieri pomeriggio L'uomo messi al sicuro i bambini Ha rincorso i due giovani Uno dei quali lo ha strattonato Mentre l'altro fuggiva in bicicletta Gli agenti della volante hanno arrestato per furto Un 23enne con precedenti Il complice è fuggito con la refurtiva forzata La porta d'ingresso dell'appartamento Giorno di proclamazione degli eletti in provincia a Teramo All'indomani del risultato elettorale I 12 consiglieri equamente distribuiti nelle due coalizioni Prendono possesso del proprio ruolo Con stimoli e motivazioni diverse Vediamo Oggi è stato il giorno della proclamazione degli eletti Del nuovo consiglio provinciale Presieduto da Renzo Di Sabatino Entrambi gli schieramenti si sono giudicati Se i consiglieri ma gli stati d'animo delle coalizioni sono differenti Il centro-sinistra brinda la riconquista della provincia Dopo i pronostici della vigilia che lo davano numericamente svantaggio Ma brinda anche alla capacità di mediazione e trattative Che hanno portato il PD a intercettare consensi nel centro-destra Il Partito Democratico, travagliato al suo interno Riesce dunque ad avere ancora PIL Forte anche di una filiera politica Che con D'Alfonso la Regione lo ha reinvigorito Il più votato della lista a sostegno di Di Sabatino Con 7.263 voti ponderati È stato il sindaco di Castellalto Vincenzo Di Marco Il PD come per le elezioni regionali Risulta essere un partito vivo Un partito che diciamo così All'interno le cose non se le manda a dire Ma le dice Però poi vediamo che questo Come dire Poi garantisce successi Garantisce risultato Forse adesso continueremo a essere anche meno Diciamo così Turbolenti Nel centro-destra le reazioni sono opposte Delusione per la sconfitta di Astolfi Ma parziale soddisfazione per i successi di vista Sorridono Tancredi e Di Dalmazio Che vedono nell'elezione dell'assessore uscente Massimo Vagnoni Il più giovane degli eletti e in Graziano Ciapanna Due perni di riequilibrio politico all'interno della coalizione All'interno della componente di Gatti C'è invece addirittura una sorta di resa dei conti L'elezione di Fracassa nasconde un'altra delusione Alla vigilia ci si aspettava un risultato numericamente più ampio Invece al sostegno a Fracassa È mancato all'appello proprio il voto di qualcuno del suo gruppo Guardi, io sono arrivato secondo nella lista Con quasi 60 voti E devo dire che sono soddisfatto di questo risultato Ma la coesione nel nostro interno Nel nostro gruppo c'è All'interno della nostra maggioranza Se fai riferimento al comune Sicuramente va rivisto qualcosa Ma non è che ci sono eccessivi problemi E restiamo in tema Primo giorno di lavoro per il nuovo presidente della provincia di Teramo Renzo Di Sabatino Il quale nel discorso di insediamento ha sottolineato La necessità che si torni a partecipare E a restituire importanza alle istituzioni Ma anche a legittimare il personale dell'ente della provincia Demotivato e logorato da anni di diatribe Sull'abolizione delle province Il neopresidente della provincia Dovrà adesso chiamare a raccolta i suoi interlocutori Per la distribuzione delle deleghe Vediamo Presidente, lei nel suo discorso di insegnamento Ha messo il punto sulla necessità Che le province esistano Che svolgano il loro compito istituzionale Quali sono le priorità adesso Anche in termini di compiti di deleghe da redistribuire? Io ho già detto Noi adesso dobbiamo reinventarci l'assetto istituzionale di questo ente Dobbiamo cambiare immediatamente lo statuto La giunta per esempio non esiste più come organo C'è il consiglio provinciale Poi c'è l'assemblea dei sindaci Che non era un organo previsto precedentemente dalle province E in questo lavoro poi noi verificheremo Insomma anche un assetto delle competenze Ho detto già più volte che assegnerò delle deleghe Devo un attimo capire anche insieme ai sindaci Come gestire il rapporto tra il Presidente e il Consiglio provinciale Chi sono i suoi interlocutori nell'ambito della redistribuzione delle deleghe? Sono già avviati dei confronti? Ci sono in atto? No, io ho già detto che naturalmente partirò Dalle persone, dei consiglieri che mi hanno sostenuto Ma complessivamente, sia per quanto riguarda le deleghe, sia per quanto riguarda i rapporti Io naturalmente interloquirò con la mia parte politica Ma anche con tutti i sindaci del territorio A prescindere dalla loro colorazione Ci spostiamo a Pescara Migliaia di persone che vengono private della loro libertà e dignità La Caritas diocesana di Pescara traccia a Palazzo Digital La mappa dello sfruttamento della prostituzione nell'area metropolitana Attraverso il progetto Agar Un dettagliato studio condotto sul campo Negli ultimi 18 mesi ha partecipato anche Don Luigi Ciotti Vite in affitto 20 milioni in tutto il mondo Le vittime della tratta degli esseri umani Legate all'immigrazione E gestita dalla criminalità organizzata In particolare E' il fenomeno della prostituzione Ad essere in costante escalation Donne straniere arrivate in Italia Con la speranza di una vita migliore E che si ritrovano invece A subire violenze e maltrattamenti Inenarrabili nell'indifferenza generale Proprio per rompere questo muro di insensibilità La Caritas diocesana di Pescara Ha presentato questa mattina Nella sala consigliare del comune di Pescara I dati del progetto Agar Condotto sulle strade dell'area metropolitana Solo nel mese di settembre Le presenze in strada sono aumentate del 15% Rispetto alla media del settembre 2013 A illustrare dati, obiettivi e prospettive Sono stati Monsignor Giancarlo Perego Direttore Fondazione Migrantes L'arcivescovo di Pescara Penne Monsignor Tommaso Valentinetti La dottoressa Daniela Di Capua Direttrice del Servizio Centrale Dello Sprar del Ministero dell'Interno E Don Luigi Ciotti Presidente Libera e Gruppo Abele Sacerdote simbolo della lotta alle mafie Qui parliamo di persone a cui viene calpestata La libertà e la dignità Non basta, ripeto, con muoverci Quando vanno giù i barconi Bisogna muoverci tutti Lo chiediamo alla politica Che faccia di più la propria parte Possibile che non si riesca a trovare Delle modalità Per arginare tutto questo Per andare incontro alla storia La fatica e la sofferenza delle persone Anche pensando che ogni minuto La spesa militare nel mondo È di 3 milioni di dollari al minuto È coloro che siamo chiamati a riflettere A interrogarci A conoscere per diventare persone più responsabili Allora io credo che in Italia Anche in Italia La prima riforma da fare è un'autoriforma È la riforma delle nostre coscienze C'è un'assunzione da parte nostra Di maggiore responsabilità Non sono loro che ci tolgono L'occupazione e il lavoro Che è una storia che viene da più lontano Oggi c'è una guerra silenziosa E questa guerra silenziosa mondiale È la guerra che toglie la libertà La dignità a tante persone Che non affronta il nodo delle politiche sociali Che non affronta il nodo del lavoro Che non affronta l'attenzione Al giustizia sociale Allora bisogna creare le condizioni di lavoro Di libertà e dignità per tutti Studi professionali bloccati dai calcoli della Tasi La nuova tassa sui servizi indivisibili In scadenza in questi giorni A creare problemi sono soprattutto Le detrazioni e le modalità di calcolo Diverse da comune a comune Di qui l'appello dell'Ordine Provinciale Dei dottori, commercialisti ed esperti contabili di Teramo Che invita le amministrazioni comunali A consultare il Consiglio dello stesso Ordine Per facilitare le procedure E per il futuro a uniformare Le modalità di calcolo Che ad oggi prevedono circa 85.000 possibilità Lo scenario che si ripropone anche in questa occasione A dottori commercialisti ed esperti contabili Scrive in una nota il Presidente dell'Ordine Teramano Alberto Davide Per mettere in condizione i propri clienti Di adempiere con puntualità Al pagamento della Tasi E quello di lavorare Far lavorare in affanno Senza uniformità ed in condizione di emergenza Oltre il normale orario Anche nei giorni festivi e di riposo Con i rifiuti bloccano una scaletta A servizio dei palazzi Sono ormai esasperati gli sfollati Della palazzina di Colle Atterrato di Teramo Andata a fuoco qualche mese fa Hanno deciso per protesta Di prendere i rifiuti della discarica abusiva Perennemente presente sotto casa loro Per manifestare il proprio disagio Vediamo La discarica abusiva sotto la casa Andata a fuoco a fine luglio A Colle Atterrato Basso Ha esasperato gli sfollati Per protesta hanno preso parte dell'immondizia Spostandola nelle scalette A servizio dei palazzi del quartiere Il gesto ha creato disagi Come vedete Perché è stato bloccato Un passaggio importante Utilizzato come scorciatoia Dagli abitanti della zona Per arrivare Senza percorrere troppa strada Nel centro di Colle Atterrato Basso E c'è stato già qualche malumore Da parte dei cittadini Che hanno trovato la scaletta Sbarrata dai rifiuti Intanto gli sfollati Aspettano ancora di rientrare Nelle proprie abitazioni La situazione è bloccata Dalla società del gas Che ancora non riallaccia le utenze Per la mancanza del certificato Di agibilità parziale Che dovrà essere rilasciato dall'Ater Presumibilmente rientreranno a casa Entro la fine di ottobre Loro però sollecitano La rimozione dei rifiuti Perché dicono Non ci sentiamo sicuri E soprattutto Le condizioni igieniche Sono precarie Discussioni sull'oggetto Del processo tributario Il tema di un incontro di studi Organizzato dalle cattedre Di diritto tributario Delle università di Teramo e di Parma La prima sessione del convegno Si terrà a Teramo Giovedì prossimo 16 ottobre A partire dalle 9.30 Nella sala delle lauree Della facoltà di giurisprudenza Nel campus di Costa e Sant'Agostino Mentre la seconda si terrà Nell'Ateneo di Parma Il 5 novembre prossimo Emergenza lingua blu Circa 10.000 I capi già vaccinati in Abruzzo Grazie alla campagna Di vaccinazione Partita a fine settembre In tutto l'Abruzzo Il direttore generale Dell'istituto zooprofilattico Caporale Fernando Arnolfo E il direttore sanitario Savini Fanno il punto Sulla campagna Sentiamo Dottor Savini Da fine settembre È partita la campagna Per la vaccinazione Sulla Bluetong Oltre 100 I focolai In Abruzzo Come sta procedendo La campagna Dunque la campagna Sta procedendo bene Mi sembra sia iniziata Lunedì Fine settembre 29 settembre Abbiamo già Proveduto a vaccinare Più di 10.000 capi Credo che Le dosi Siano state già ordinate Quindi sono in arrivo Presupponiamo In un paio di mesi Di finire tutta la campagna Vaccinazione Qui in provincia di Teramo Qual è la situazione? Sicuramente Si è calmata Grazie anche All'intervento Dei colleghi Sul territorio Si è calmata Non abbiamo più Quella mortalità Che si aveva Il mese scorso Sull'emergenza Bluetong Come sta andando La campagna Iniziata a fine settembre? Sulla Bluetong Noi Il direttore sanitario Dottor Savini È uno dei massimi esperti A livello europeo E mondiale Di Bluetong Quindi abbiamo La fortuna Di avere Questa figura Che è Il mio primo collaboratore Cosa posso dire io Non nella parte scientifica Io posso dire Che è stata positiva La modalità gestionale Mi sembra che L'approccio A questo problema Sia stato quello giusto Il coinvolgimento Di tutte le parti interessate L'istituto Per quanto riguarda La sua parte I servizi veterinari Territoriali La regione Il ministero Gli allevatori Questa Ogni emergenza Legata A qualche Problema Sulla zootecnia Qualche zoonosi Qualche malattia Del bestiame Questa per fortuna Non è trasmissibile All'uomo Deve essere affrontata Con un gioco di squadra Di questo tipo Quattro giornate di formazione All'istituto Zoprofilattico Caporale Per gli studenti Del master universitario In cooperazione Veterinaria Internazionale L'evento formativo Organizzato Dall'IZS E dal dipartimento Di medicina Animale Produzione e salute Dell'Università di Padova Si terrà Da domani Al 18 ottobre Presso il centro internazionale Per la formazione L'informazione Veterinaria Gramenzi Di colle atterrato alto di Teramo Durante i quattro giorni Si parlerà tra l'altro Delle principali malattie studiate Dall'istituto Zoprofilattico Nei diversi paesi africani In cui l'ente di ricerca Sviluppato e continua A portare avanti Collaborazioni scientifiche L'invecchiamento della pelle Si è approfondito Questo tema Nel corso di un convegno Che si è tenuto a Pescara Dove sono stati illustrati I metodi per combatterlo Vediamo Sabato scorso All'hotel Esplanade Di Pescara Si è tenuto uno Dei tre corsi regionali Di aggiornamento Isplad Società italiana Di dermatologia plastica E oncologica La particolare location In una città di mare Ha dato ancora più significato All'argomento del corso Il photoaging Ruolo del dermatologo plastico Nella prevenzione E nella riparazione Del danno Per photoaging Si intende Il danno causato Dalle radiazioni solari Sulla cute Che oltre a determinare Un invecchiamento precoce Della cute stessa Può determinare L'insorgenza Di tumori cutanei Al termine Degli interventi Dei relatori Le conclusioni acquisite Hanno sostanzialmente Confermato Che il sole Se ben gestito Non è un nemico Fondamentale Diventa una prevenzione Con filtri solari appropriati In base al fototipo E l'integrazione Con antiossidanti E vitamine Come il beta carotene La vitamina C E la vitamina E Tuttavia Una volta instauratosi Il danno Si può intervenire Su vari fronti Una novità E la PDT Terapia fotodinamica Fino ad oggi Utilizzata Su particolari Tipologie Di tumori cutanei Che trova ora Applicazione Nell'invecchiamento Cutaneo Fotoindotto Altra novità Emersa dai lavori Riguarda l'impiego Dell'acido Tranexamico Per la terapia Schiarente Del melasma Ovvero le macchie cutanee La patologia più frequente Legata all'indiscriminata Esposizione solare Il prossimo venerdì 17 ottobre Si svolgerà a Giulianova Presso la sala congressi Del Cursal Un importante seminario Dal titolo Verso una integrazione Dei servizi per i minori Organizzato Dalla rete Interistituzionale Dei servizi Territoriali Della provincia di Termo L'obiettivo attuale Della rete territoriale È quello di costruire Le premesse I presupposti Per poter implementare Nella provincia di Termo Ma soprattutto nella regione L'integrazione dei servizi sociali Con quelli sanitari Dotando la regione Abruzzo Di uno strumento Programmatorio unico Il piano socio-sanitario Regionale Adesso Prima della pagina sportiva Andiamo a vedere Che tempo farà Nelle prossime ore Con Meteoteramo.it Previsioni per oggi In Abruzzo Al pomeriggio Molto nuvoloso O coperto Con locali fenomeni Temporaleschi Sui settori appenninici Nuvoloso Sui settori costieri In serata E nella notte Molto nuvoloso Temperature in lieve Diminuzione Massime comprese Tra 22 e 25 gradi Nelle conche Aquilane e Marsicane Tra 26 e 29 gradi Sulle pianure adriatiche Venti deboli Meridionali Mare calmo O quasi calmo In provincia di Teramo Nubi medio-alte In transito Per l'intero arco Della giornata Su tutto il territorio provinciale Nel pomeriggio Maggiore instabilità Con possibili rovesci sparsi Anche a carattere temporalesco Sulle aree montane Esaurimento dei fenomeni Tra sera e notte Con permanenza Di stratificazioni Temperature in lieve Diminuzione Massime comprese Tra 22 e 25 gradi Nelle pianure dell'entroterra Tra 23 e 26 gradi Sulle coste Venti In intensificazione Dai quadranti Sud-occidentali In serata Mare calmo O quasi calmo Con il calcio apriamo la pagina sportiva Il Teramo ieri pomeriggio Ha ripreso la preparazione In vista del prossimo match di campionato Tra i biancorossi Hanno lavorato a parte Donna Rumma La Padula E Bucchi Quest'ultimo le prese Con i postumi Di un pestone al piede L'attaccante comunque Non sembra essere in dubbio Per la partita di sabato Contro la Carrarese L'unica squadra Ancora imbattuta Del girone Migliorano invece Le condizioni di Cristian Buonaiuto Che dopo aver smaltito Un problema alla coscia Sta tornando al 100% Della condizione L'abbiamo intervistato La partita di Ferrara Ci ha restituito Una buona notizia E una cattiva notizia La buona notizia È che Buonaiuto è tornato La cattiva notizia È che è tornato Con un po' di sfortuna Soprattutto in zona gol Sì è vero dai La cosa importante Sì che sto tornando Piano piano Riesco a ritrovare la condizione Magari sono stato sfortunato Che ho preso una traversa Un paio di occasioni In cui potevo fare gol Sarebbe stato molto più facile Per il mio rientro Però ci sta Il calcio è questo E spero di rimettermi in forma Per sabato E stare al 100% Per dare il mio massimo E il massimo contributo Alla squadra Contro l'Aspal Comunque il termo Avrebbe meritato sicuramente di più Sì abbiamo fatto una gran partita Con un gran pubblico Meritavamo qualcosina in più Sicuramente per le occasioni create Però è stata una bella partita Anche da parte loro Quindi sì Potremmo fare qualcosa in più Come a livello di risultato Però non ci possiamo lamentare Per quello che abbiamo offerto Come squadra Come gioco Come tutto Le tue attuali condizioni fisiche? Mi sento di essere quasi al 100% Adesso anche grazie alla partita di sabato Ho ritrovato la fiducia Che mi mancava E per sabato Sono al 100% Per la gara La partita contro la Carrarese? È una squadra sicuramente Che non è facile da battere Nessuno ancora ci è mai riuscito Speriamo di riuscirci noi sabato Bisogna assolutamente vincere Anche per dare valore Al pareggio maturato In quel di Ferrara? Sicuramente Poi soprattutto dopo La brutta partita Che abbiamo fatto qui in casa Contro l'Aquila È fondamentale Far risultato in casa E a proposito delle prossime partite Queste le designazioni Per le partite del prossimo weekend Le designazioni arbitrali Teramo Carrarese È stata affidata A Giuseppe Strippoli di Bari Reggiana L'Aquila A Dario Melidoni Di Fratta Maggiore Nella giornata di oggi Sono stati definiti Gli orari delle gare Di Coppa Italia Di Lega Pro La partita Tra Teramo e Ascoli Valida per il secondo turno Si giocherà Allo stadio Bonolis Di Pianodaccio di Teramo Mercoledì 22 ottobre Alle 20.30 Allo stesso orario E nella stessa giornata Giocherà anche L'altra abruzzese L'Aquila I Rosso Blu Sempre per il secondo turno Di Coppa Italia Saranno impegnati Sul campo del Ponte d'Era Lunedì 27 ottobre Presso l'hotel Serena Majestic Di Montesilvano Ci sarà l'assemblea straordinaria Elettiva Delle società Dilettantistiche D'Abruzzo Inizio fissato alle 17.30 In prima convocazione Alle 18.00 In seconda Nel girone A Di promozione Ancora il calcio Prosegue il momento magico Del Castellalto Che ha vinto il derby Con il Castelnuovo E si è confermato In vetta A punteggio pieno Nel girone B Invece c'è stato L'ennesimo cambio In vetta Adesso la nuova capolista E il passo cordone Il servizio Domenica scorsa Nel campionato di promozione Si è giocata La sesta giornata Nel girone A Il Castellalto Ha confermato La sua leadership A punteggio pieno Gli uomini di Quattraccioni Si sono aggiudicati Il derby contro il Castelnuovo Per 1-0 Decisivo Il gol segnato A 5 minuti Dalla fine da Rodomonti Subito dietro La capolista Ha tenuto il passo L'altra matricola terribile Del girone Il cerchio Gli aquilani Hanno superato il Real Carsoli Con un netto 3-0 Reti firmate Da Daniele Di Girolamo Alberto Di Girolamo E Rosati Nelle zone medio-alte Della classifica Poi Il big match Della giornata Tra Pontevomano E Santomero E' finito Con la vittoria De Gialloneri Di Mister Massarotti Anche in questo caso E' stato determinante Un gol realizzato Negli ultimi minuti Di gioco Marcatore Marini Sempre per quanto riguarda Le grandi o presunti Tale del campionato E' finito in parità 1-1 Lo scontro tra Notaresco e Mociano Un punto che serve a poco Ad entrambe le formazioni Che si sono ulteriormente Allontanate dal primo posto Nei piani alti Della classifica Si corre Nelle zone basse Invece si va Passo di Lumaca Nell'ultimo weekend Infatti hanno perso Balzorano Contro Guerra E Tortoreto Ossia tutte le squadre Che sono attualmente Coinvolte nella corsa salvezza Gli Adriatici In particolare Hanno rimandato nuovamente L'appuntamento Con i primi punti Della stagione Nel girone B Di promozione Invece c'è stato L'ennesimo cambio Della guardia in vetta Adesso comanda il passo Cordone Che nell'ultimo turno Ha battuto lo scafa Con un perentorio 5-1 Subito dietro C'è Gran Bagarre Con 8 squadre Tutte racchiuse in 3 punti A 12 Ci sono Castello 2000 L'ex capolista Valdisangro Con quest'ultima Che nel big match Di giornata Non è andata oltre Lo 0-0 Sul campo della Folgore San Buceto Poi 3 squadre a 11 punti Delfino Flacco Porto Penne e Silvi 1-10 La Folgore stessa E 2-9 Valle del Foro E Virtus Ortona Tutte sembrano avere Le medesime possibilità Di entrare in zona playoff Nelle zone basse Respira il River Casale 65 Che in trasferta Ha rifilato un cappotto Al Torre Alex di Cepagatti 2-7 Il punteggio finale Con tripletta di Antignani Ancora niente da fare Invece per il Lauretum Che è sempre all'ultimo posto Con appena 2 punti E chiudiamo con l'atletica leggera Bilancio positivo per gli atleti Terramani Ai campionati italiani cadetti Che si sono svolti a Borgo Val Sugana In provincia di Trento La triplista Valeria Latino Ha stabilito il primato personale Di 11,82 m E si è laureata così Campionessa italiana di specialità Medaglia d'argento Invece per Gaia Sabatini Che nei mille metri femminili Si è piazzata al secondo posto Con un tempo di 2 minuti 55 secondi e 92 centesimi Bene anche tutti gli altri atleti Tesserati con l'atletica Gran Sasso Teramo Salvatore Angelozzi Arrivato quinto nel salto triplo Michelangelo Pomante Decimo nel salto con l'asta Decimo anche Jacopo Gimignani Nel lancio del disco Bene E' davvero tutto per questa prima edizione Del nostro telegiornale L'appuntamento con l'informazione Si rinnoverà questa sera Sempre in diretta alle 19.15 Grazie e buon proseguimento Arrivederci Grazie a tutti